Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, bentornati, bentornate sul canale. Riprendo con le lezioni di storia classe quinta e incomincio proprio dall'inizio del Novecento, dallo scenario di inizio secolo. Ricordo che con le quinte sto utilizzando il testo Concetti e connessioni, Fossati, Lupi, Zanette, quindi non il Barbero come nelle altre classi che ho. E ecco, diciamo che in generale anche nei video precedenti ho parlato di quello che succede alla fine dell'Ottocento che prepara il terreno per la Prima Guerra Mondiale, che sarà ovviamente l'argomento fondamentale di questo primo quadrimestre. Quindi abbiamo già parlato della Belle Epoque, delle luci e delle ombre della Belle Epoque, lo trovate a pagina 20, 21, 22. Abbiamo già parlato dell'imperialismo. Quindi ecco, quello che ci manca è parlare adesso un attimo della situazione dei Balcani, che è molto importante trattare perché comunque la Prima Guerra Mondiale, la miccia della Prima Guerra Mondiale scoppia a Sarajevo. E poi parlare dell'età giolittiana, quindi di quello che accade in Italia prima della Prima Guerra Mondiale. Cercherò di essere un po' sintetica perché non ho molto tempo, spero di essere chiara. Allora, partiamo col dire che i Balcani sono... Questo argomento è a pagina 22-23 sul libro. I Balcani sono un'area geografica caratterizzata dalla presenza di una grande varietà di etnie, di popoli, di culture, di religioni, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è soggetta in parte, soprattutto nella parte più settentrionale, all'impero asburgico e in parte all'impero ottomano. Sulla stessa area però c'è anche l'influenza dell'impero russo. Naturalmente l'impero asburgico e l'impero ottomano si trovano all'inizio del Novecento in una fase, diciamo, discendente, in una fase calante. Ci ricordiamo che con la Prima Guerra Mondiale finiscono gli imperi. Quindi gli imperi in generale stanno vivendo la loro fase di declino. Quali sono i problemi dell'impero asburgico? Non ricordo se l'abbiamo già detto nei video oppure no. Ce ne sono vari. Il problema principale è proprio l'eterogeneità dei territori, per cui ci sono molti contrasti. Intanto, se vogliamo vederli un po' tutti, ci sono contrasti tra i popoli, per esempio, di lingua cieca e i popoli di lingua tedesca. Abbiamo il movimento dei giovani ciechi che nasce. Ci sono contrasti tra gli abitanti della zona di quello che poi sarà il Friuli o anche la Slovenia, Trieste, scusate, l'Istria, Trieste, l'Istria, eccetera, che si sentono più vicini all'Italia che non all'Austria, che non a Vienna. Poi abbiamo tutta la questione dei cosiddetti Slavi del Sud, serbi, croati, vabbè, serbi in realtà no, perché comunque il regno di Serbia esisteva, però croati, sloveni, bosniaci, che appunto volevano più che stare all'interno dell'impero asburgico annettersi al regno di Serbia, che esisteva, insomma, dalla seconda metà dell'Ottocento. Tant'è che appunto nell'impero asburgico, nel 1867, si decide di creare un secondo governo. Prima l'impero asburgico era molto vasto, molto grande, comprendeva la zona dell'Austria, dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della ex Jugoslavia, diciamo così, parte dell'Italia, il Friuli, eccetera, e l'unico governo era Vienna. Si decide poi di spezzare il governo e creare un secondo governo a Budapest, quindi in qualche modo sono rappresentate l'etnia austriaca o comunque di lingua tedesca e quella magiara o comunque ungherese, ma non tutte le popolazioni si sentono rappresentate. Ecco, e quindi ci sono delle problematiche nell'impero asburgico, anche nell'impero ottomano che ha avuto, insomma, i suoi secoli d'oro precedentemente, ci sono delle problematiche, per dirne una, ricordo la rivolta dei Giovani Turchi del 1908, che tra l'altro crea, che sono i Giovani Turchi, che sono un gruppo politico ispirato a Mazzini, tra l'altro, ispirato alla Giovane Italia di Mazzini, costituito proprio allo scopo di trasformare l'impero ancora arcaico in una monarchia costituzionale. Tra l'altro, di questa crisi, di questa rivoluzione, approfitta l'impero asburgico per annettere a sé la Bosnia e l'Herzegovina, ma più in generale, di questa situazione di caos e di fragilità, approfittano i paesi balcanici, gli stati balcanici, per rivendicare la propria autonomia, la propria indipendenza. E quindi, in questo contesto molto complesso e molto caotico, scoppiano anche le due guerre balcaniche. La prima guerra balcanica, non entro troppo nei dettagli, la prima guerra balcanica vede alcuni paesi dei Balcani, Serbia, Grecia, Bulgaria e Montenegro, contro la Turchia, che è appunto l'ex impero ottomano, è il tallone, diciamo, duro dell'impero ottomano, vincono le potenze antiturche, si spartiscono, diciamo, i territori conquistati, ma la Bulgaria, che aveva appunto sostenuto il peso più grande della guerra, si sente poi sacrificata e attacca la Serbia e la Grecia. La seconda guerra balcanica prevede invece la Bulgaria, che si mette a fianco della Turchia, e dall'altro lato la Serbia, a cui si affiancano la Romania e la Grecia. Vincono di nuovo le potenze antiturche, quindi, di nuovo, Romania, Serbia e Grecia, in particolare la Serbia, amplia i suoi territori, e così da parte dell'Aus e dell'Italia viene poi creato lo Stato di Albania, proprio per impedire alla Serbia di avere lo sbocco sul mare. Questo è importante appunto per capire poi le questioni della prima guerra mondiale, dello scopo della prima guerra mondiale. Queste cose le trovate in modo abbastanza sintetico, ma comunque le trovate a pagina 23. Le sto rivedendo un attimo, velocemente. Ok. Va bene. Cambiando argomento, ma non cambio video, parlo invece un attimo dell'età giolittiana. Allora, per età giolittiana si intende quel periodo che va dal 1903 al 1914, nella quale governa quasi ininterrottamente Giovanni Giolitti, questo ministro che il vostro libro vi presenta, pagina 27, è un ministro piemontese, possiamo definirlo come un liberale progressista. Già aveva fatto la sua comparsa sulla scena quando abbiamo parlato della sinistra storica, delle prime dimissioni di Crispi, era intervenuto Giolitti che si era già presentato con uno dei suoi punti cardine, ovvero la neutralità rispetto ai conflitti, rispetto alle masse, però poi era stato, diciamo, sfiduciato perché insomma, aveva avuto, era in qualche modo, in questo momento sto facendo fatica a trovare i termini, ma era in qualche modo coinvolto, ecco, nello scandalo della banca romana e quindi poi avevamo avuto il secondo governo Crispi. Diciamo che Giolitti, sono a pagina 25 del vostro libro, Giolitti si trova a dover gestire una Italia che appunto si trova in un momento particolare, da un lato positivo è comunque il momento della Belle Epoque, dall'altro negativo, cioè in un momento positivo nel senso che è un momento comunque di maggiore progresso rispetto ai precedenti, è un momento di maggiore pace, è un momento di maggiore modernizzazione, però è comunque il periodo prima della Prima Guerra Mondiale e le tensioni ci sono e sono palpabili. Una delle frasi celebre, più celebre di Giolitti è proprio quella che dice la politica è l'arte di governare il paese quale è con le leggi che ci sono. Quindi questo è un po' il compito di Giolitti. Quali sono i problemi che attraversano l'Italia? Sicuramente la profonda frattura tra nord e sud anche perché l'industrializzazione è arrivata al nord ma non al sud. Il fatto che il governo rappresenta una piccola fetta della classe dirigente e il fatto che un vasto, una vasta platea di cattolici sia in qualche modo autoesclusa dalla vita politica a causa del non expedit di Pio IX che vi ricordo e dall'altro lato assistiamo anche alla nascita della società di massa e dei partiti di massa. Il primo partito di massa che abbiamo è sicuramente il partito socialista che nasce negli anni 90 dell'Ottocento con Turati però il partito socialista già di per sé non è unito perché presenta due coerrenti quella più riformista e quella più massimalista. Quindi Giolitti deve in qualche modo governare la modernizzazione italiana con tutte le sue tensioni o con tutte le sue contraddizioni. Quali sono i cardini principali del programma politico di Giolitti? Sicuramente la neutralità per quanto riguarda i conflitti anche e soprattutto nell'ambito dei conflitti delle manifestazioni del mondo del lavoro eccetera Giolitti pensa che suo compito sia mantenere l'ordine pubblico ma non schierarsi dalla parte degli imprenditori e dei padroni come avevano fatto i primi ministri precedenti e come era quasi sempre accaduto e questo gli fa guadagnare la simpatia dei socialisti ma non di tutti i socialisti solo di quelli più moderati di quelli più riformisti si parla infatti di un tacito accordo tra Giolitti e Turati che è il leader del Paese Socialista un altro punto cardine è quello di rafforzare il Parlamento si parla per Giolitti talvolta di dittatura parlamentare non perché lui sia stato un dittatore ma anzi appunto a dei modi che abbiamo visto sono anche abbastanza neutrali abbastanza pacifici tendenzialmente però ha questa capacità di tenere le redini del governo e di tornare al governo tutte le volte che vuole nel senso che comunque Giolitti riesce addirittura a tornare al governo anche dopo la prima guerra mondiale diciamo che quando semplifico un po' però quando c'è una situazione problematica a livello nazionale o internazionale ha buon gioco a lasciare il governo per poi comunque riuscire a riprendere le redini del governo e il suo obiettivo è quello comunque simile a Crespi di creare un grande centro dove lui possa avere appunto dei grandi consensi quindi cerca di avere il consenso dei socialisti per esempio con questa con questa neutralità poi però cercherà il consenso dei nazionalisti e dei conservatori proclamando la guerra di Libia che magari non come dire pensando a una persona neutrale in generale perché mai poi deve andare a intervenire in una guerra perché comunque a parte che la guerra è fonte di prestigio è fonte di soldi fa girare l'economia a parte questo però interessa perché in questo modo lui piacerà di più a una fetta che conta ok della popolazione quindi diciamo che in generale Giolitti dà sostegno alle forze più moderne della società italiana quindi da un lato il proletariato urbano dall'altro lato però anche i grandi proprietari la borghesia industriale cercando di creare anche lui un grande centro quindi anche per lui può andare bene il termine trasformista secondo me e anche una capacità un po' di manipolare il governo per tornare il Parlamento scusate per tornare a governare quando si sente più tranquillo diciamo così quindi rafforzare il Parlamento e dominare il Parlamento è sicuramente un altro punto chiave poi abbiamo sviluppare una politica di riforme collegata a Giolitti è sicuramente la riforma legata al voto ma ancora prima di questa abbiamo una serie di riforme sociali ed economiche riforme soprattutto nel campo della legislazione sociale le trovate a pagina 27 la statalizzazione delle ferrovie la creazione delle ferrovie dello Stato appunto una nuova legge scolastica la municipalizzazione dei servizi pubblici la nazionalizzazione delle assicurazioni sulla vita un sistema di sicurezza sociale per i lavoratori quindi assicurazioni sugli infortuni assicurazioni per le malattie cioè cose che sicuramente sono anche molto importanti come dicevo appunto inizialmente trova il placet del partito socialista ma successivamente no per quanto riguarda in generale il suo atteggiamento oltre a essere trasformista è sicuramente possiamo definire Giolitti un po' un Giano Bifronte nel senso che ha un comportamento al nord con gli industriali del nord e un altro comportamento al sud ci sono anche delle immagini che lo ritraggono come Giano Bifronte appunto che da un lato tratta al nord dall'altro lato bastona al sud quindi ecco questo sicuramente Giolitti sarà molto criticato dagli intellettuali come per esempio Salvemini gli intellettuali meridionali per quanto riguarda il mondo cattolico Giolitti appunto annusando le crescenti difficoltà con i socialisti cerca di dare più peso allora ai cattolici che sono la grande maggioranza degli italiani è vero che non siamo più ai tempi di Pio IX non siamo più ai tempi del non expedit e abbiamo un nuovo papa che è mi sta sfuggendo il nome Leone XIII che ha emanato una nuova enciclica che è la Re Ron Novarum che stimola comunque la nascita del movimento sociale cattolico e delle sue organizzazioni soprattutto nelle campagne e in qualche modo vedremo che anche Giolitti più avanti però prenderà accordi con i cattolici cercando in questo modo un terreno più fertile con i cattolici quindi per quanto riguarda diciamo il suo primo governo che va più o meno dal 1903 al 1905 dobbiamo ricordare tutte le cose che ho già detto neutralità nel campo dei conflitti di lavoro gestione del decollo industriale comunque sono gli anni d'oro certo solo per alcune città principalmente Milano Torino e Genova riforme in campo sociale economico che sono comunque molto importanti vengono emanate anche le leggi per il mezzogiorno che hanno dei insomma dei pro e dei contro dittatura parlamentare Giolitti lascia un attimo il governo un anno forse o anche meno e poi torna per un'altra serie di anni e poi di nuovo lascia il governo e di nuovo torna quando torna l'ultima volta abbiamo appunto la riforma elettorale che è il suffragio universale maschile suffragio universale maschile siamo nel 1912-13 le prime elezioni nel 1912 poi le prime elezioni avvengono nel 13 a suffragio universale maschile ce l'avete a pagina 31 e però è proprio in questo contesto che abbiamo anche come dire un accordo che lui fa con i cattolici il cosiddetto patto gentiloni leggo dal libro per evitare che l'asse politico potesse uscire troppo squilibrato verso sinistra visto che adesso votano tutti i maschi maggiorenni si presentò all'appuntamento elettorale con in tasca un accordo politico con i cattolici il patto gentiloni dal nome del presidente dell'unione elettorale cattolica l'accordo prevedeva che i cattolici avrebbero appoggiato a livello locale contro i socialisti i candidati liberali che si fossero impegnati a non ostacolare l'istruzione privata a garantire l'istruzione religiosa nella scuola pubblica e a opporsi alle leggi proposte sul divorzio quindi siccome si ha timore che con il suffragio universale vinca il partito socialista lui fa accordi con i cattolici cioè cattolici votate il partito liberale che poi è quello di giolitti io in cambio farò questo per voi abbiamo quindi il patto gentiloni è tra il 13 in questi anni qui nel 13 un anno prima due anni prima abbiamo la guerra di Libia con l'obiettivo appunto di conquistare la Libia questo c'è la vita pagina 30 l'Italia entra in guerra per conquistare la Libia la Libia faceva parte dell'impero ottomano quindi siamo sempre in un periodo in cui la Libia è fragile è precaria cioè l'impero ottomano e perché l'Italia conquista la Libia un po' perché siamo in questo clima di imperialismo per cui tutti devono conquistare qualcosa questo dà prestigio all'Italia un po' perché erano favorevoli alla conquista i nazionalisti i conservatori i gruppi industriali e quindi Giolitti a buon gioco a piacere appunto a loro ma considerate che persino Pascoli che non è come dire un guerra fondaio cioè non lo non lo penserei come un guerra fondaio scrive addirittura un testo che si intitola La grande proletaria si è mossa la grande proletaria sarebbe l'Italia finalmente si è mossa cioè finalmente anche lei va a guadagnare il suo posto al sole non mi interessa insomma lo svolgimento del conflitto nello specifico la guerra in Libia comportò delle spese ingentissime anche delle conseguenze ingentissime in termini di morti di lutti i vantaggi economici furono modesti anche perché la Libia sembrò poi uno scatolone di sabbia anche perché non c'erano ancora gli strumenti per per esempio estrarre il petrolio quindi sembrò appunto un po' una conquista un po' poco efficace però appunto questo intervento dell'Italia contribuisce a destabilizzare quell'area balcanica di cui appunto abbiamo parlato prima quando Giolitti capisce inizio 1914 che le tensioni sono molto forti in Italia decide di lasciare il governo e infatti sarà Antonio Salandra a portare l'Italia in guerra però